E dalle strutture sanitarie ora passiamo invece alle pesanti ricadute nel tessuto economico. Oggi a Fano è arrivata una presa di posizione ferma e decisa dai ristoratori. Si sono riuniti 60 ristoratori fanesi, hanno preso una decisione unica nel suo genere, quella di abbassare le saracinesche fino al 3 aprile. Sono 60 titolari di licenze di cibo e bevande che si sono dati appuntamento oggi per studiare una strategia comune per far fronte all'emergenza Covid-19, anteponendo così la salute pubblica e i propri interessi economici. Interessi, hanno detto in una nota, che si moltiplicano in maniera esponenziale considerando che dietro a ognuno di loro ci sono decine, centinaia di famiglie che traggono il proprio sostentamento economico dall'attività di ristorazione. Per cui quello che lanciano i ristoratori fanesi è un grande segnale di responsabilità, ma anche un forte richiamo ad un impegno nel mondo politico e sindacale a non vanificare questo pesante sacrificio e chiedono l'annullamento di tasse, tributi e imposte per tutto il periodo di validità del decreto ministeriale, a cominciare dalle tasse comunali come rifiuti acqua e suolo pubblico.